Ormai questo sta diventando un imperativo per il Paese. Si esce se cominciamo a modernizzare i territori. Come modernizzarli? Massicci interventi di alfabetizzazione digitale, infrastrutturazione e consapevolezza. C'è chiaro che amministrazioni, stake code non possono più funzionare in Italia come hanno funzionato fino ad oggi, perché ne va veramente del destino del Paese.